Di porte aperte oggi alla residenza Fersina, la struttura di accoglienza di via al deserto per i trentini, la possibilità di incontrare e conoscere i profughi e le loro storie. Sempre oggi per chi resta in città, giornata dedicata ai più piccoli al Muse e al Museo Diocesano, con giochi e laboratori per scoprire le scienze e l'arte. Le due strutture aderiscono infatti alla giornata nazionale delle famiglie al museo.